E l'avvocata divorzista ride, la bella avvocata specializzata in divorzi, in matrimoni, in divorzi, ride tanto, tanto, tanto. Ma chi è questa bella e brava e buona avvocata divorzista che ride? Chi è? Chi è? È bella, brava e buona. Si chiama Anna Maria Bernardini de Pace. Anna Maria Bernardini de Pace. E ha scritto un libricino, un libricino intitolato Legami e slegami, legami e slegami, legami e slegami. Va bene? È pubblicato da Amazon, Amazon. E ride tanto, Dio quanto ride, quanto ride, perché è una famosa avvocata matrimonialista diversista, divorzista in Italia, ci fa gli affari sul matrimonio, vero? Cara avvocata bella, brava e buona, Anna Maria Bernardini de Pace. E c'è scritto, ah, la notizia la trovo sul Fatto Quotidiano, perché io lo sfoglio tanto volentieri al mattino, il Fatto Quotidiano, capito? E quindi trovo questa bella notizia, che la bella e brava e buona avvocata, divorzista, Anna Maria Bernardini de Pace, ha scritto, questo, si è scritto così, libricino, libricino, intitolato Legami e slegami, legami e slegami. E io la notizia che ho trovato sul Fatto Quotidiano, cari amici, ve la metto come lì in riassunto di questo video. Intanto, alla bella, brava e buona avvocata matrimonialista, divorzista, Anna Maria Bernardini de Pace, io le dico che sarebbe bene che lei si leggesse questa mia opera, che in lingua inglese sta in tutto il mondo, cara Anna Maria Bernardini de Pace, fra un matriarche dopo un matriarche, ma lei, cara avvocata, la può leggere anche in lingua italiana, perché prima di apparire in lingua inglese è apparsa in lingua italiana, dove io sostengo che la cosa migliore sarebbe quella di abolirla il matrimonio. Sì, sì, dico anche come sostituirlo il matrimonio, però va abolito, capito? Va abolito Anna Maria, e una volta abolito il matrimonio, e abisit i muri affermis, spariscono pure gli avvocati e matrimonialisti come lei, bella, brava e buona avvocata matrimonialista, Anna Maria Bernardini de Pace. Ecco qua, cara avvocata, e tutte sono le mie opere, cara avvocata, ma quello che lei deve leggere è questo pamphlet, questa opera, che sta in tutto il mondo, è una sua bella lezione in lingua inglese, però prima è apparsa in lingua italiana, cara avvocata, a lei, cara avvocata, e a tutti voi che mi seguite, e tanti cari saluti da Serafino Massoni.